Musica Dal 2 al 4 settembre il mondo dell'artigianato artistico ceramico si dà appuntamento a Faenza. Nella quinta edizione di Argilla si sta sempre più caratterizzando come punto di riferimento storico per l'artigianato ceramico contemporaneo internazionale. E' partito ufficialmente Argilla, siete soddisfatti? Assolutamente sì, già le premesse sono di grande prospettiva, tantissima gente in città, gli espositori ieri già presenti a Faenza erano oltre 500 persone, sono 250 stand quest'anno di espositori ceramici. Quindi una grande edizione, grandi prospettive e poi anche il tempo è magnifico che accoglie questi espositori stranieri e italiani con grande piacere. Questa è l'edizione della consapevolezza, nel senso che credo che a Faenza si è compreso con grande profondità quella che è l'unitarietà che c'è nel mondo della ceramica, tra arte, artigianato, design. Se tempo fa pareva che ci fossero delle distinzioni ad Argilla Italia, qui a Faenza, non solo convivono ma dialogano tutte queste forme di espressione attraverso un connotato comune che è il saper fare. Il saper fare con le mani, il saper fare con la terra, il saper fare con gli smalti. È stato abbattuto il muro polveroso che veniva considerato quello sulla tradizione per arrivare invece alla luce dell'artigianato artistico che è poi stato il successo di Argilla. Sì, io ho usato questi termini perché effettivamente dopo cinque edizioni, pensando alla prima volta dove non c'era un reale dialogo e confronto tra queste parti e pensare oggi invece a quella che è Argilla, l'edizione di questa volta, credo che sia una conclusione facile da trarre. Quando vediamo in giro per le strade i prodotti ceramici che potrebbero tranquillamente stare dentro un museo e partecipare a un concorso internazionale d'arte moderna, significa che veramente in Europa, non solo in Italia, la ceramica, l'artigianato, l'arte dialogano e convivono in modo assolutamente positivo. Presente tantissime delegazioni dall'estero, la crescita di Argilla è il frutto di un lavoro di lunga tessitura da parte della pubblica amministrazione del MIC in questi anni? Sì, diciamo che non è frutto del caso ma si colloca all'interno di un percorso che stiamo costruendo dove l'idea di allargare i confini, di dialogare, di mettere a confronto culture, storie, tradizioni è un po' il nostro obiettivo. Abbiamo in giro per l'Europa sicuramente tante iniziative, tante mostri di mercato forti come le nostre, però la nostra credo sia quella che maggiormente rispetto ad altre ha questa dimensione di internazionalità. Questo lo dobbiamo un po' alla nostra cultura, alla nostra storia, all'identità della nostra città dove da sempre l'idea dell'apertura è stato elemento fondamentale. Abbiamo una tradizione e un'identità molto solide, abbiamo origini chiare e proprio per onorare queste origini vogliamo portare avanti il percorso di confronto. In questa edizione vedremo sia nella mostra del mercato tantissime storie che ci parlano di popoli, di culture, di tradizioni completamente diverse, ma abbiamo anche tante mostre, eventi, performance, workshop con maestri, con artisti che sono partiti con il loro lavoro da Oriente, da Occidente, dall'Europa, dal sud-est asiatico, da ogni parte del mondo. Avremo anche tante delegazioni, questo per noi è importante perché tanti amministratori che poi costruiscono le politiche culturali e anche la progettazione pubblica della ceramica si incontrano a Faenza. Vedremo in questi giorni, anche in Consiglio Comunale, in un momento istituzionale, l'incontro di quasi 20 delegazioni, insomma amministratori di città, nazioni così diverse insieme, credo sia un grande messaggio. La ceramica non conosce i confini, nel senso che nella sua storia la ceramica è per definizione un momento di passaggio dalle tavole, alle case, dalle nazioni, alle culture, quindi stiamo cercando di essere all'altezza di una grande responsabilità che la storia ci ha donato. Argilà nasce a Dobagne, che cosa rappresenta questa collaborazione con Faenza per voi? Il legame con Faenza è un legame importante, è con la città, con un territorio, con la ceramica. Faenza è il paese della Maiolica e quindi questi legami sono sempre andati avanti in questi anni, anche con le partecipazioni e i progetti comuni a cui partecipano sia il senatore Collina che il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi e quindi è la nostra sorella, il nostro partner ufficiale e noi siamo molto orgogliosi di questa collaborazione.